L'impresa è compiuta, quantomeno quella più impegnativa in mare, visto che c'era da arremare per giorni nel bel mezzo del Mediterraneo. Elia Origoni ieri mattina ha fatto il suo ingresso nel porto di Trapani con la sua imbarcazione a Remi dopo aver navigato per circa 175 miglia dalla Sardegna alla Sicilia. Ad accogliere Elia, che vive a Besozzo, località del Vare Sotto, il presidente del CAI d'Irice Vincenzo Fazio e la Lega Navale di Trapani. Ma diciamo che è andata bene, è andata bene perché anche se non avevo mai affrontato il mare aperto, grazie a un po' di persone che mi hanno aiutato abbiamo trovato i giorni giusti per partire e sapevo che erano quelli e quindi è andata bene. Poi soprattutto fidarsi della barca che è sotto i piedi diciamo che serve e quindi anche per me è stata la prima esperienza. Io il mare l'ho visto dal traghetto o dalla spiaggia, quindi prima volta che uscivo in mare aperto oltre le due miglia dalla costa. Tante vogate, lì bisogna mettersi un po' in uno spirito zen e andare, vogare tranquillamente senza senza avere la fretta di arrivare, quindi una vogata dietro l'altra, tranquillamente, senza sforzo e sperare nel vento perché alla fine è la cosa che ti aiuta di più. Elia Origoni ha deciso di percorrere l'intero sentino d'Italia del CAI nell'assoluto rispetto della natura, quindi a piedi senza l'aiuto di mezzi e nei tratti di mare andando con la sua barca a remi, quindi senza inquinare e ad emissione zero. Il suo progetto è patrocinato dal club alpino italiano e dalla federazione italiana di canottaggio con l'obiettivo di mandare un messaggio di rispetto dell'ambiente. Il messaggio che voglio dare principalmente è quello che un po' soprattutto adesso dopo questi lunghi periodi che stiamo vivendo un pochettino rinchiusi, riscoprire la natura e riscoprirla con uno spirito avventuriero come quello che piace un po' vivere a me, secondo me è il motivo giusto, quindi senza calcarsi magari per andare a cercare la tavola calda in rifugio o altro, ma vivere la natura, vivere la montagna, vivere l'ambiente all'aperto a 360 gradi, riscoprire un pochettino posti e territori un po' abbandonati e per questo a me è piaciuto farlo lungo il sentiero Italia che penso che sia uno dei percorsi più belli che ci sono al mondo, è il trekking più lungo del mondo, ce l'abbiamo in Italia e quindi perché bisogna andare a cercare cose da altre parti.